La nuova disciplina della conferenza di servizi riscrive di fatto il tradizionale rapporto del modello decisionale basato su due elementi fondamentali, ovvero la contestualità e la simultaneità. Le esperienze che verranno presentate nel webinar ci mostrano in che modo gli strumenti digitali consentono di recuperare o di riscrivere questi due elementi. Grazie a tutti.